Per me questo albergo è tutto, è la mia vita e io per questa cifra non mi sposto. Perché stiamo andando dall'anno? Di solito ci andiamo a Natale. Vabbè ogni tanto per cambiare ci andiamo all'estate, no? Oh no! Ma cosa fai qui? È una sorpresa. E voi siete venuti qui senza preavviso per dirmi che volete separarvi. Chiara! Mick! Se glielo diciamo noi gli spezziamo il cuore. Ciao Chiara, che ci fai tu qui? L'estate. Se glielo dici tu glielo puoi far capire facendogli il meno male possibile. No perché se posso dire la mia... Non puoi dire la tua. Credo che sarà molto dura per Chiara. Quindi questi due imbecilli si sapanno. Però se posso dire la mia... Non puoi dire la tua, non puoi. Sei diverso dal solito, sei pensieroso. Sai cosa deve essere questa dieta ferrea che sto facendo? Tanta ginnastica, questi addominali. La stella cadente? Dai, spiega un desiderio, dai. Vorrei che fosse Natale. Tutto da solo ho fatto, eh. Otto non ha alzato un dito. Ma la neve? Non parliamo più. Non facciamo neanche più. Io ho capito, immagino. Mi serve il tuo aiuto. A me indiocesi, sai come mi chiamano? Come ti chiamano indiocesi? Don Attack. Per forza, perché si siete attaccati alla bottiglia. Sono sicuro che troveremo un accordo. Spazieranno via tutto. L'albergo, il bosco, l'intera valle. Noi dobbiamo fermarli. Tutti felici. Mengzù. Stanza 103. E allora, facciamo tremare questa valle? Ah, vedi, a cuore aperto. Natale quest'anno, lo facciamo a ferro agosto. Buon Natale! Se posso dire la mia? No, non puoi dire la tua. Ma un giorno potrò dire. No! Radio Italia. Radio Ufficiale.